A fuoco un'auto ad Alcamo nella zona del quartiere Sant'Anna, in fiamme una Fiat Punto distrutta solo parzialmente, dubbi sulla matrice del rogo sul posto non sono state trovate tracce che possano far presumere il dolo. E' giallo sulla morte di un anziano allevatore di Salemi e del figlio trovati uccisi nelle campagne di Santa Ninfa, forse il movente è un regolamento di conti. Il sindaco di Alcamo fa quadrato attorno al segretario generale del comune, anche dopo il parere della regione che sollecita la sua rimozione, il primo cittadino non demorde, insorge il Movimento 5 Stelle. Anche l'azienda sanitaria provinciale di Trapani, pronta a fronteggiare eventuali casi di ebola, emanato il piano attuativo che prevede una serie di azioni e procedure da adottare per i casi sospetti. Acqua inquinata, allarme in centro storico a Partinico, riscontrata la presenza batterica nel corso di un prelievo dell'ASP, immediato il provvedimento di divieto di potabilità. Laboratorio di lettura all'Istituto Tecnico di Alcamo, iniziativa della Compagnia Teatro di Fuori, trova l'adesione di diverse altre scuole della città, progetto aperto a tutti. Si lavorerà su dizione e analisi testuale, ma anche sulla creazione di testi teatrali. Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1, apriamo con la cronaca. Torna il fuoco ad Alcamo, le fiamme questa notte hanno danneggiato una Fiat Punto in via Baldassare Massa, stradina che si trova nel quartiere di Sant'Anna. L'auto è stata danneggiata dalle fiamme solo parzialmente ad andare distrutto il vano motore. Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento che con celerità hanno spento le fiamme nell'arco di pochi minuti ad indagare il commissariato di polizia che al momento non esclude alcuna ipotesi. Sulla matrice del rogo i pompieri non si sono sbilanciati, non essendo stata ritrovata sul posto alcuna traccia che possa far presumere che si è in presenza di un raid doloso. Ed è giallo sulla morte di un anziano allevatore di Salemi e del figlio trovati uccisi nelle campagne di Sant'Aninfa, forse il movente è un regolamento di conti. Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano sul duplice omicidio di due uomini, padre e figlio, avvenuti ieri in luoghi e momenti diversi. Antonino Catalanotto, 81 anni, pastore di Salemi, è stato trovato ucciso o colpito da diversi colpi di fucile a bordo della sua automobile, in una strada isolata in Contrada Besi, piano Buturro, tra Sant'Aninfa e Castelvetrano, utilizzata soprattutto da agricoltori e allevatori. Si pensa che l'anziano stesse rientrando a casa dopo aver fatto visita al suo vile e mentre stava viaggiando in direzione di Contrada Montagna, sulla sua Fiat Punto Bianca, vecchio tipo, si sia trovato davanti qualcuno che dal finestrino aperto gli ha sparato a bruciapelo, ad allertare i carabinieri della compagnia di Castelvetrano, una persona che transitava in zona. All'interno dell'auto, il pane appena comprato, delle bottiglie d'acqua, gli occhiali, la coppola e il telefonino. Sull'omicidio, indaga la procura di Sciacca. A poche ore di distanza, in serata, è stato trovato il cadavere del figlio, Francesco Paolo Catalanotto, coltivatore di 41 anni, nelle campagne di Sant'Aninfa, anche egli assassinato a colpi d'arma da fuoco. Secondo gli investigatori, entrambi sarebbero stati ammazzati in mattinata. Tra le piste battute dagli inquirenti, quella del delitto maturato nell'ambito di un regolamento di conti nell'ambiente della pastorizia. Scoperto a Calatafimi-Segesta un intero condominio che rubava energia elettrica, continuano così le verifiche predisposte dalla compagnia Carabinieri di Alcamo, diretta dal capitano Savino Capodivento, in collaborazione con il personale tecnico dell'Enel, per controllare i collegamenti delle abitazioni private con la rete elettrica. I militari della stazione Carabinieri di Calatafimi-Segesta hanno denunciato all'autorità giudiziaria ben cinque persone, ovvero gli occupanti dell'intero condominio nel quartiere popolare di Sasi. È stato accertato che l'impianto elettrico delle abitazioni, attraverso dei fori praticati verso l'esterno, era collegato tramite all'acirudimentali direttamente alla rete Enel, bypassando così i contatori. Ci spostiamo ad Alcamo, il sindaco fa quadrato attorno al segretario generale del Comune, anche dopo il parere della Regione che sollecita la sua rimozione, il primo cittadino non demorde. Insorge il Movimento 5 Stelle che chiede l'immediato adeguamento al Comune. E se in secondo grado il ricupati venisse assolto, chi glieli paga gli eventuali danni per la rimozione? Di sicuro non il Comune, ma se ne dovrà assumere le responsabilità il Ministero. Parola del sindaco di Alcamo, Sebastiano Bonventre, che continua a fare quadrato attorno al segretario generale del Comune, Cristoforo Ricupati, nonostante il parere appena emesso dall'assessorato regionale alla funzione pubblica, in cui si sostiene che il funzionario andrebbe subito rimosso. A giorni dovrebbe arrivare la sentenza di secondo grado, che riguarda proprio Ricupati, rimasto invischiato all'epoca in cui era sindaco Scala e ritenuto colpevole in primo grado, perché avrebbe avallato la richiesta del primo cittadino di avvalersi di consulenti esterni, pur disponendo di adeguate professionalità interni all'ente. Il sindaco, nonostante gli attestati di stima e fiducia nei confronti del segretario comunale, dice che è pronto ad allinearsi alle decisioni che arriveranno dagli enti preposti. Noi abbiamo di ufficiale soltanto il parere della Civit, la Commissione dello Stato per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sottolinea, che ha sostanzialmente rimandato ogni decisione al Ministero della Funzione Pubblica per la complessità della vicenda. Oltretutto ho visionato una nota del Ministero dell'Interno, aggiunge ancora Bonventre, che anzi legittimava la permanenza di Ricupati. Ad ogni modo, se ci saranno altri orientamenti, pur con dispiacere per le doti del segretario, mi adeguerò di conseguenza. A diffondere il contenuto del parere dell'assessorato, il gruppo parlamentare Lars del Movimento 5 Stelle, che aveva nei mesi scorsi interpellato sulla vicenda alla Regione. Oggi è arrivata la risposta. L'incarico del dirigente del Comune, sottolinea l'assessorato regionale, è incompatibile col decreto legislativo 39 del 2013, che statuisce l'inconferibilità di incarichi di vertice a coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per abuso d'ufficio e falso ideologico. Una normativa, sottolinea il deputato regionale dei Grillini, Valentina Palmeri, disattesa dal sindaco Bonventre, che infatti non ha ancora provveduto alla rimozione del segretario. Secondo sempre la Regione, il Ministero dell'Interno ha avviato il doveroso procedimento disciplinare di competenza nei confronti di ricupati. Tra qualche giorno il Tribunale di Trapani dovrebbe mettere la sentenza di secondo grado nei confronti dello stesso ricupati. In pratica, conclude la deputata del Movimento, mentre il Ministero dell'Interno ha già avviato il doveroso procedimento disciplinare, il sindaco Bonventre invece continua a mantenere al Comune questa situazione di assoluta illegittimità. Appare evidente che tale nota vale più di qualsiasi altra circolare che il sindaco ancora attende in ordine e modifiche legislative. La rimozione di ricupati fu chiesta da più parti per la vicenda giudiziaria che per l'appunto lo aveva coinvolto con condanna già subita in primo grado ad un anno di reclusione e pena sospesa per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Il sindaco di Castelvetrano, Selilunte Felice Errante, ha preso parte ieri alla cerimonia di consegne di alcuni beni confiscati alla mafia che si è tenuta a Palermo alla presenza, tra gli altri del Ministro dell'Interno Angelino Alfano, del Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il Direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati. All'amministrazione Castelvetranese sono stati consegnati quattro terreni che saranno utilizzati per iniziative sociali e lo stabilimento industriale di Via Tagliata, già sede di Olio Oliva, che è stato assegnato alla cooperativa Terra Mia, costituita da ex dipendenti del gruppo 6 GDO. L'assegnazione è avvenuta di concerto con l'Agenzia dei beni confiscati, la quale da parte sua cederà il ramo di azienda Olio Oliva con le relative attrezzature e macchinari unitamente a quello della stagionatura dei formaggi. I sette dipendenti che hanno costituito la cooperativa e che per la capitalizzazione della stessa impiegheranno l'indennità di mobilità vedono così realizzarsi il sogno di tornare al lavoro. Anche l'azienda sanitaria provinciale di Trapani, pronta a fronteggiare eventuali casi di ebola, ha emanato il piano attuativo che prevede una serie di azioni e procedure da seguire per i casi sospetti. La gestione delle fasi iniziali di un eventuale caso sospetto accertato nel territorio trapanese di un paziente affetto da virus ebola è quanto predisposto nel piano attuativo aziendale emanato dalla direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani sulla base del decreto dell'assessorato regionale della salute malattia da virus ebola, implementazione, sorveglianza e case management. Il piano, ha dichiarato il direttore generale Fabrizio De Nicola, è stato stilato dopo un tavolo tecnico con tutti i direttori sanitari ospedalieri di presidio e i responsabili dei dipartimenti e servizi di prevenzione, emergenza, formazione, rischio clinico, malattie infettive, patologia clinica e farmacia ospedaliera. Saremo così pronti, dice De Nicola, a trattare in tutta sicurezza eventuali casi sospetti che dovessero presentarsi nella nostra provincia. Il piano contempla una serie di azioni, dai posti letto dedicati in isolamento in un locale apposito nel pronto soccorso, con ingresso autonomo e isolamento del percorso dove andrebbe a transitare il presunto malato, alla ricognizione e implementazione del materiale per gli operatori sanitari impiegati nell'assistenza diretta al malato, per fornire loro i dispositivi di protezione individuali che abbiano delle caratteristiche specifiche per contenimento di rischio microbiologico come tuteidone, doppi guanti in nitrile, occhiali, visiere. Ovviamente sono state elaborate delle procedure da adottare nei casi sospetti con esecuzione degli esami di laboratorio per la ricerca e l'identificazione degli agenti responsabili di febbre emorragiche come test su malari e tubercolosi e l'eventuale trasferimento del paziente sintomatico al centro individuato nel decreto assessoriale. Nel caso in cui invece ci si dovesse trovare di fronte ad un caso di malattia accertata si dovrà procedere al trasporto del paziente in alto biocontenimento nel rispetto delle direttive e dei regolamenti vigenti verso strutture ospedaliere attrezzate per fronteggiare tali fatti specie. L'Istituto di riferimento individuato per la gestione dei casi è l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma. Il piano intende anche rassicurare il personale sanitario del comparto in quanto il virus è trasmesso da soggetti provenienti esclusivamente da determinate aree come Liberia, Sierra Leone e Guinea e non si diffonde per via aerea. A tal proposito è stato stilato un programma formativo per gli operatori che potrebbero venire a contatto con casi sospetti da malattia da virus Ebola che verrà articolato in varie sessioni. Per il direttore sanitario dell'ASP Antonio Siracusa tutte le procedure in tempi brevissimi sono state attentamente vagliate da tutti gli operatori per cui si è pronti in qualsiasi momento ad intervenire e trattare qualora si dovesse presentare una sintomatologia compatibile con la malattia da virus Ebola in piena sicurezza il paziente. Una folta delegazione di pensionati trapanesi prenderà parte mercoledì prossimo 5 novembre alla giornata nazionale di mobilitazione unitaria che si terrà a Palermo al Teatro Politeama. L'iniziativa organizzata da SPCGL, FNPC, Slewil, Pensionati è stata illustrata in occasione dell'attivo unitario dei sindacati dei pensionati al quale hanno partecipato i segretari provinciali e regionali delle tre sigle. Ci riuniremo nel capoluogo siciliano hanno spiegato i segretari per chiedere al governo nazionale più sviluppo e occupazione per i giovani un welfare pubblico e solidale una legge sulla non autosufficienza per rivendicare la tutela del reddito da pensione e l'estensione della riduzione delle tasse degli 80 euro anche ai pensionati. Acqua inquinata, allarme in centro storico a Partinico riscontrata la presenza batterica nel corso di un prelievo dell'ASP immediato il provvedimento di divieto di potabilità. Acqua inquinata in un'ampia fetta del centro storico di Partinico lo ha rilevato l'azienda sanitaria provinciale di Palermo che ha inviato una nota al comune partinicese e alla società Acque Potabili proprietaria delle reti idriche e fognarie avvertendo del pericolo incombente in caso di consumo ad uso potabile per i cittadini. Il prelievo è stato effettuato per la precisione in via Guglia dove sono stati rilevati parametri al di fuori dei limiti concessi e dalle normative vigenti. Ieri è stato effettuato sempre dall'ASP un nuovo prelievo e oggi dovrebbe arrivare invece l'ordinanza di divieto di potabilità dell'acqua da parte del sindaco Salvo Lobiundo. Intanto i cittadini della zona sono stati già avvisati dai tecnici del comune di Partinico di evitare l'utilizzo dell'acqua che sgorga dai rubinetti per uso potabile. Il prelievo del campionamento dell'acqua inquinata è stato effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Unità Operativa Igiene degli Alimenti Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale guidato dal direttore Domenico Mirabile e dalla dirigente responsabile Giuseppina Villini. Il problema ovviamente potrebbe non essere confinato soltanto nella via Guglia. È molto probabile che vi sia un'infiltrazione fognaria che quindi potrebbe aver inquinato l'acqua che arriva nelle abitazioni del circondario quindi tutta la zona a valle della storica Villa Margherita dove si contano all'incirca un ambacino di almeno mille residenti. Invitiamo Comune e APS sottolineo in una nota Mirabile Villini ad effettuare immediatamente le verifiche del caso estendendo i controlli anche ad altri punti di distribuzione idropotabile a valle a monte della zona. Ad essere stata evidenziata nel campionamento dell'acqua effettuato la presenza di micro organismi vitali e di coliformi totali al di fuori dei parametri consentiti oltre che tracce di cloro residuo nella rete. L'inquinamento batterico potrebbe essersi anche verificato per la scarsa clorazione. Si consiglia di attenzionare maggiormente la clorazione delle acque scrivono ancora dall'Unità Operativa Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale prima della loro distribuzione avendo cura di assicurare alle utenze terminali almeno 0,20 mg per litro di cloro residuo così come consigliato dal decreto legislativo in materia. Ora si attendono gli interventi della PS per risolvere il problema dell'inquinamento della zona e solo successivamente l'azienda sanitaria effettuerà nuovi prelievi per verificare la solubrità dell'acqua. Non è la prima volta che il centro storico viene interessato da questi problemi di inquinamento dell'acqua è successo nei mesi scorsi anche nelle vie Medici, De Francisce e Gioberti in Piazza Duomo, nella via di Franco e nel quartiere attorno all'Argomodica. Duro colpo inflitto ai pescatori di Frodo di Ricci di Mare a Mazzara del Vallo nell'ambito dei controlli della Capitaneria di Porto volti alla prevenzione e repressione della pesca abusiva nelle acque antistanti litorale i militari della Guardia Costiera hanno elevato un verbale amministrativo di 1000 euro a carico di un trentenne palermitano sorpreso ad effettuare pesca subacquea illegale del riccio appunto nelle acque di località Capo Fetto sequestrate anche tre bombole da sub complete di erogatori e 12 sacche abbandonate sul fondale contenenti circa 5000 ricci di mare ancora vivi e subito rigettati in mare. Il comune di Alcamo, assessorato alla pubblica istruzione e politiche giovanili, aderisce all'iniziativa del Ministero dell'Interno per la prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al bullismo negli istituti scolastici. In una nota, l'assessore Selene Grimado ricorda che recentemente è stato attivato un numero telefonico, il 43002 al quale si potranno inviare sms per segnalare eventuali casi di spaccio o bullismo nelle scuole o nelle immediate vicinanze. Le informazioni verranno prese in carico dalle forze di polizia che predisporranno opportuni e mirati interventi. Dal tempestoso mare della vita al quieto mare dell'eternità in un infinito abbraccio. Alla presenza del prefetto sabato 1 novembre si terrà una cerimonia a Castellammare del Golfo in memoria di tutti gli immigrati vittime di naufragi al campo comune del cimitero comunale. Dal tempestoso mare della vita al quieto mare dell'eternità in un infinito abbraccio. E la frase incisa sulla lapide marmorea in memoria di tutti gli immigrati vittime di naufragi che l'amministrazione comunale castellammarese ha posto nel campo comune dove sono state sepolte 30 vittime dei naufragi avvenuti a Lampedusa e nel canale di Sicilia il 3 e il 12 ottobre dello scorso anno. La lapide marmorea sarà scoperta al cimitero sabato alle 10.30 alla presenza del prefetto di Trapani Leopoldo Falco. Interverranno il sindaco Nicolo Coppola il presidente del consiglio comunale Domenico Bucca e il responsabile del settore lavori pubblici Simone Cusumano. Il campo comune è stato anche ricoperto d'erba dove sono state poste le lapidi in marmo per ogni morto. Nello stesso campo lo scorso anno l'amministrazione ha posto una scultura in arenaria donata dall'artista britannico Mike Power. Vogliamo che questo campo del nostro cimitero diventi un simbolo di solidarietà e fratellanza. La memoria di questi nostri fratelli rimane perenne in questo abbraccio del nostro paese che accoglie i morti ma anche i vivi con grande affetto. Invito ancora i cittadini ad essere presenti alla cerimonia afferma il sindaco Coppola a donare un pensiero o un fiore a chi non ha nessuno qui come già avvenuto il 3 ottobre durante la cerimonia di commemorazione per l'anniversario della tragedia di Lampedusa. In quella occasione è stata davvero una grande emozione pregare su queste tombe e in particolare su quelle dei due giovani eritrei che grazie alla moglie e alla sorella non sono più dei numeri. Presentato ieri presso la sala delle riunioni di Palazzo Dalia Trapani lo sportello multifunzionale Sordi attraverso un servizio specializzato e individualizzato di assistenza e affiancamento ai utenti con disabilità auditiva lo sportello intende garantire l'accessibilità dei servizi e l'abbattimento delle barriere della comunicazione per le persone sorde così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Nell'erogazione dei servizi lo sportello prevede la presenza di un'equip multidisciplinare costituita da diverse figure professionali e in particolare 5 interpreti LIS o assistenti alla comunicazione che faciliteranno la comunicazione interpersonale tra udenti e non udenti 3 psicologi che facilitano le relazioni dell'utente sordo e il suo nucleo familiare due conselor della sordità logopedisti che si occuperanno della prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie della voce, del linguaggio e della comunicazione un audiologo che fornisce consulenza per le valutazioni generali dell'udito e l'applicazione di apparecchi acustici e sistemi dell'udito e infine un educatore sordo che supporterà le azioni dello sportello assisterà gli operatori nell'interazione specifica con l'utenza e soprattutto offrirà un riferimento identitario alla persona sorda favorendone il processo di riconoscimento e accettazione della propria identità Laboratorio di lettura all'Istituto Tecnico di Alcamo l'iniziativa della Compagnia Teatro di Fuori trova l'adesione di diverse altre scuole della città un progetto aperto a tutti si lavorerà su dizione, analisi testuale ma anche sulla creazione di testi teatrali parteciperanno anche diversi scrittori e giornalisti di fama La scuola si apre al territorio e lo fa rispolverando il suo patrimonio bibliotecario con l'obiettivo di riaccendere nei giovani e meno giovani la passione per libri L'iniziativa parte dall'Istituto Tecnico Girolamo Caruso di Alcamo e dalla Compagnia Teatro di Fuori che nei prossimi giorni darà novità ad un laboratorio in cui per l'appunto si darà la possibilità a tutti gratuitamente di poter frequentare degli incontri formativi in cui si lavorerà su dizione, analisi testuale e anche delle proprie creazioni di testi teatrali un lavoro che partirà dall'enorme patrimonio dell'ITC fatto di circa 2000 libri l'iscrizione potrà essere fatta direttamente nella sede dell'Istituto Tecnico e non ci sono limiti di età a partecipare attivamente come partner del laboratorio anche gli istituti comprensivi Bagolino e Pietro Maria Rocca e il secondo circolo San Giovanni Bosco tutti di Alcamo se per la cittadina alcamese si tratta di un debutto assoluto di questo progetto che prende il nome di Libri Vivi per la compagnia teatro di fuori invece alla quarta edizione avendolo proposto in altre città con successo non solo siciliane ma anche al di fuori dei confini regionali un'esperienza quindi collaudata che non a caso sbarca ad Alcamo città dove ultimamente sta esplodendo il cosiddetto fenomeno della movida salvaggia che vede i giovani nei fine settimana perdersi tra fiumi di alcol e droga il laboratorio ha come obiettivo finale proprio quello dell'aggregazione e del recupero oltre che alla formazione vera e propria confrontarsi su delle letture e poi renderle vive pensiamo che alla fine la formazione sarà per tutti poi la preside sta dando giustamente dei crediti formativi per gli alunni della scuola noi diamo un attestato che è un attestato di una compagnia di ricerca e formazione che ha un suo curriculum che ha dei suoi premi quindi avrà un suo valore ma credo che l'attestato di formazione più importante sia quella di alzarsi da libri vivi e attivare un po' il cervello a rendere ancora più accattivante il laboratorio il fatto che arriveranno alcuni importanti scrittori e giornalisti a parlare dei loro libri da citare Pino Imperatori della Giunti Editore che verrà a parlare dei suoi ultimi successi incentrati sul tema della Camorra oppure Danilo Ferrari il giornalista tetraplegico con due lauree in tasca che parla solo muovendo gli occhi ma che ha una grandissima forma espressiva ed infine da citare Ivo Tiberio scrittori di libri gialli e crime che presenterà in anteprima la sua ultima fatica si lavorerà non solo su libri contemporanei ma anche su letterati storici e tradizionali il laboratorio che verrà presentato ufficialmente il prossimo 12 novembre si svolgerà sulla base di un incontro settimanale della durata di due ore e sarà curato da Turidanka e da un'altra esperta della compagnia Alex Cusumano attraverso l'esperienza che spero tutti vorranno fare di libri animati ritengo che si possa riscoprire il piacere della lettura estensiva non essere obbligati a leggere il capitoletto di storia perché l'indomani si è interrogati ma leggere per il piacere di leggere per trovare dentro noi stessi quelle emozioni che attraverso la tecnologia purtroppo andiamo perdendo Prenderà il via domani venerdì 31 ottobre il secondo weekend del festival il sole d'autunno nel Belice festival di itinerari stili di vita e prodotti a chilometro zero con un laboratorio didattico dal titolo a San Martino la sementa del contadino ed è rivolto agli studenti delle scuole primarie i partecipanti con l'aiuto degli operatori potranno realizzare invasi o contenitori dei piccoli orti che poi porteranno con sé l'indomani sabato primo novembre si terrà invece appoggio reale il Belice AgriFest ovvero la prima fiera dell'agroalimentare della Valle del Belice con danze gare mostre e degustazioni mentre nel comune di vita si potranno effettuare degli itinerari nelle tradizioni e nelle arti del centro belicino domenica 2 novembre infine è possibile immergersi tra la natura nell'area del castello di Pietra che sorge tra i comuni di Partanne e di Castelvetrano in un ballone con alte falese dove scorre il torrente tributario del fiume Belice esiste un giornalismo indipendente è il titolo della conferenza relativa al percorso tematico giornalistismo informazione comunicazione che si terrà presso l'auditorium del liceo scientifico Santi Savarino di Partinico in via Peppino impastato domani alle 9.25 la giornata prevede la proiezione di un documentario sulla propaganda nei regimi totalitari e l'intervento tra gli altri relatori del giornalista Amedeo la mattina della stampa e si conclude così questa edizione del nostro telegiornale a seguire la rubrica 3 minuti con click curata dal professore Vincenzo Lucchese grazie per averci seguiti e buon proseguimento Buongiorno a tutti altro comune di Cato Stampa del 15 di ottobre 2014 prende in via il progetto di lingua araba presso l'istituto comprensivo Sebastiano Bagolino da mercoledì 15 ottobre è partito il progetto di lingua araba presso l'istituto comprensivo Bagolino progetto che si propone di fare crescere l'integrazione sociale e gli scambi culturali del territorio alcamese il presidente Caif Atika dell'associazione Markatz ha chiesto l'appoggio del comune di Alcamo rivolgendosi nello specifico all'assessorato pubblica istruzione al fine di attuare gratuitamente il progetto ICRA per realizzare il laboratorio di lingua araba ad Alcamo l'assessorato ha fornito quaderni materiali di facile consumo didattico a circa 20 bambini arabi che partecipano al progetto io l'ho già detto cioè non doveva partire il progetto di lingua araba ma il progetto di lingua italiana perché l'arabo e i bambini lo sanno o se non lo sanno lo potranno imparare dai propri genitori a loro serve conoscere invece la lingua italiana e poi leggo ancora l'assessore alla pubblica istruzione Selene Grimato ricorda che il progetto che si svolgerà il lunedì e mercoledì pomeriggio è aperto anche agli alunni alcamesi della scuola primaria che desiderano approcciarsi alla lingua araba io rimango della mia idea l'arabo i ragazzi arabi lo debbano imparare dai propri genitori e non dalla nostra scuola andiamo avanti andiamo avanti e parliamo di che cosa parliamo parliamo della relazione sull'attività espletata dal OIV il sottoscritto nominato OIV del Comune in indirizzo con determinazione sindacale relazione in maniera succinta l'attività espletata quindi cosa succede c'è il dottore Ferro Federico che è stato nominato con incarico triennale 2013-2016 5.000 euro l'anno per questo diciamo OIV che è una specie di controllo che fa e lui fa questa relazione che io per la verità mi sembra troppo succinta allora monitoraggio e valutazione sull'avvio del circo della performance piano adottato entro il 31-1-2014 proposta di valutazione dei dirigenti per l'anno di competenza 2012 relazione della relazione annuale redazione della relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità nei controlli interni con riferimento al ciclo della performance precedente valutazione sull'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativamente al ciclo della performance in corso sollecitazione alla predisposizione della relazione sulla performance precedente sollecitazione alla predisposizione di un'analisi del benessere organizzativo attestazione dell'esatto addempimento della normativa in maniera di trasparenza io avrei preferito che il dottore Federico Ferro invece di dare questa relazione sull'attività espletata ci dicesse che cosa ha trovato diciamo a proposito di queste cose che lui ha fatto il monitoraggio la proposta di valutazione quindi poi questa redazione della relazione annuale mi sarebbe piaciuta vederla come sarebbe piaciuta ascoltarla anche a tutti i cittadini comunque vi ricordo che l'incarico è triennale 2013-2016 e questo signor dottor Federico Ferro percepisce 5.000 euro all'anno bene mi fanno cenno che i tre minuti sono trascorsi vi ringrazio e ci risentiremo la prossima volta